Ciao a tutti ragazzi, ed eccoci qua per una nuova presentazione, perfetto, perfetto. Grazie mille ragazzi per l'interesse per quanto riguarda questo circuito. Infatti dovevamo appunto passare al nostro grande amico analizzatore, che avevamo appunto già accennato, non mi ricordo se o la puntata scorsa o due volte fa, non mi ricordo più. Quindi abbiamo visto il nostro analizzatore, che automaticamente poi ci analizzerà i nostri componenti, in questo caso Diodoled, eccetera, eccetera, ma qualcuno appunto nel frattempo ha fatto altre domande. Ma è fantastico, è fantastico, perfetto ragazzi, per me è un piacere ovviamente andare a vedere insieme a voi questa cosa qui. E quindi la domanda, adesso non mi ricordo di... Sì, 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 se non sbaglio aveva a che fare con il valore del condensatore. Sì, appunto qualcuno ha chiesto, ma ovviamente allora noi possiamo mettere il valore che vogliamo. Ma ovviamente ragazzi, ma certamente, ma nessuno ce lo pedisce, noi possiamo fare quello che vogliamo. E quindi, allora, io ho ridisegnato il mio schema elettrico del nostro circuito, ok, eliminando tutto a superfluo, via via via, non ci interessa. E praticamente eliminando i nostri strumenti di monitoraggio, quindi amperometro, volmetro, perfetto, il nostro fusibile, ok, e in questo caso anche deviatore. Per cui, vediamolo così com'è, abbiamo la nostra linea, ok, sotto tensione, perfetto, ovviamente il nostro diodo LED con la sua resistenza di limitazione, perfetto, e il nostro amico, se volete ragazzi, lo evidenziamo, voi cosa dite? Così lo vediamo meglio. Il nostro amico, che brutto cerchio, mamma mia, lo so, lo so, e vabbè. Il nostro amico, condensatore elettrolitico, ok, gli abbiamo scritto un valore appunto di 330 microfarad, così come esempio, abbiamo detto 220, 330, vogliamo mettere il valore che vogliamo. Perfetto ragazzi, i nostri archetti equipotenziali, perfetto, bene, e quindi abbiamo la nostra linea sotto tensione. E quindi, adesso, mettiamo una cosa nuova. Allora, una cosa che è di grande aiuto, poi ovviamente ragazzi, ognuno fa sempre come vuole, come preferisce, e come sarà più comodo. Però, però, allora, intanto, ridisegnando il nostro amico schema, così com'è, perfetto, siamo molto più comodi appunto a disegnare altri simboli grafici, perfetto. Senza star lì, abbiamo tutto lo spazio che vogliamo, poche parole. Allora, adesso qui sopra gli mettiamo la doppia freccia, proprio come il cartello stradale, eh? Gli abbiamo presenti i nostri cartelli stradali. Che cosa vuol dire la doppia freccia? Perfetto ragazzi. Allora, quando la nostra linea è in tensione, per cui è automaticamente percorsa dalla corrente, che poi automaticamente può chiudersi o restare aperto. Se resta aperto, automaticamente non abbiamo il passaggio di corrente, e se invece lo chiudiamo, ovviamente il nostro carico si attiverà. Perfetto. Lasciamo stare poi tutti i vari componenti. Allora, quindi qua sulla linea, affinché però, affinché è importante che sia poi, il nostro circuito ovviamente dall'altra parte, o meglio sull'altro capo, sia effettivamente chiuso. Cioè, il comune di massa è effettivamente chiuso. Perfetto. Così avviene ovviamente il passaggio della nostra corrente, e la nostra elettricità sarà ben felice. Ma torniamo quindi alle frecce. Perfetto. Allora, frecce bidirezionale. Io posso andare a destra e a sinistra? Ah, ok, perfetto. Adesso lo so. Quindi, sulla nostra linea del positivo, perfetto, noi abbiamo appunto la nostra elettricità che libera di scorrere dove vuole. Ok? Poi vede il verso delle frecce? Ah, ma perfetto. Ma io posso andare a destra o a sinistra? Meraviglioso. Ok, a parte gli scherzi ragazzi, noi praticamente abbiamo la nostra linea sotto tensione. No? E quindi i componenti, in questo caso, ovviamente, possono essersi a valle che a monte. Per cui la mia elettricità si fermerà qua. Ok? Dove c'è un punto di giunzione. E dice, ah, ah però, ma qui io però posso dare alimentazione al nostro amico LED. Per cui andiamo, passiamo attraverso la resistenza e andiamo quindi ad alimentare il nostro carico, che in questo caso sarà rappresentato dal nostro amico LED. Ma non solo, ma non solo, dirà, ma se io vado dopo ho un altro segno, un altro pallozzo di giunzione. E quindi vedo che automaticamente c'è un altro componente che è in grado di risucchiarmi, nel senso di caricarsi in corrente. E quindi vado anche da lui. Per cui, sdoppiamento! Perfetto, ragazzi. E quindi andrà in un segno, io spero così che si capisca, quindi andrà in un senso, cioè nel senso di andare a caricare, sia a caricare, ad accendere il nostro amico LED, e andrà anche verso questo. Perfetto. E rispettivamente quindi può andare a destra o a sinistra. Perfetto. Adesso così, dicendo la parola, è praticamente presente su tutta la stessa linea. Incontra due componenti e va automaticamente dai componenti. Piacere, io sono in elettricità, serve qualcosa? È come se dicesse questo in poche parole. Perfetto, ragazzi. E quindi noi, che cosa abbiamo? Abbiamo automaticamente una coppia di componenti, che automaticamente saranno percorsi dalla nostra corrente. Perfetto, ragazzi. Allora, vediamo un po' dove scrivere. Sì, ah ma tutto lo spazio sotto, è vero. E allora, ragazzi, vediamone in un'altra maniera. Praticamente lo vedremo così. Abbiamo la nostra resistenza, il nostro diodo LED. Perfetto. Oh mio Dio, mi tocca disegnare al contrario. Perfetto, ragazzi. E ovviamente poi, che sia prima o dopo, chi se ne frega, abbiamo il nostro amico condensatore. Perfetto, giusto. Per cui noi abbiamo la nostra linea. Perfetto. Tutti i vari pallozzi di giunzione. Scusami, sei venuta storta, hai ragione. Perfetto. Ok. Per cui riscriviamo, ovviamente, positivo, sempre che sta a identificare il verso del nostro condensatore elettrolitico, perché abbiamo detto che ha la sua polarità e non deve essere invertita. Finché siamo in bassa tensione, ok, non esplode. Quando saliamo in tensione, e quindi la capacità di corrente aumenta, sarà un po' più antipatico. Boom! Ok, ragazzi, basta, torniamo a noi. R, perfetto. E cosa abbiamo dimenticato? Eh sì, vabbè, possiamo anche scrivere il valore. Per cui abbiamo i nostri due capi della nostra linea di tensione, ok? Di quale automaticamente qui abbiamo la DDP, o differenza di potenziale. Per cui ho messo il puntino lì che non serve. Perfetto, ragazzi. Ok? E quindi abbiamo detto che la nostra elettricità, ok, si trova un qualcosa dopo o prima, ma chi se ne frega, è comunque presente sulla linea, ovviamente siamo in parallelo, per cui automaticamente andrà ad alimentare quel che trova. Giusto? Perfetto, ragazzi, e questo è un piccolo trucco. Vuol dire che praticamente adesso noi abbiamo una coppia di componenti che lavora insieme. E questa coppia è formata dal nostro diodo LED, scriviamolo qua, un secondo, perfetto, e dal nostro amico condensatore. E' elettrolitico, ovviamente, può esserci anche un altro tipo di condensatore, dipende dal circuito. Perfetto, ragazzi. Questi due insieme lavorano appunto insieme. Ah, gioco di parole. Perfetto, ragazzi. E quindi, tornando al nostro amico schema, ok, scriviamo appunto la freccia di entrambe le direzioni. Ciò non vuol dire, ovviamente, che adesso così a parole va a destra e a sinistra. Diciamo più che altro che è presente appunto sulla nostra linea del positivo. Se, rispettivamente, il comune di massa è chiuso, quindi i capi dei nostri amici componenti sono richiusi a comune di massa e quindi il circuito sarà chiuso, automaticamente, ok, lei andrà automaticamente ai componenti. Potrà quindi circolare. E quindi andrà a caricare i condensatori, eccetera, eccetera. Altra cosa. Allora, per quanto riguarda il valore dei condensatori, ragazzi, teniamo conto di una cosa. Se il nostro carico è disattivo e quindi il circuito, automaticamente, è aperto, diciamo, quindi, vediamo qui, abbiamo disegnato il nostro amico interruttore, ok, sarà quindi off, perché non circola corrente, il nostro condensatore non avrà un carico che automaticamente succhiera più corrente. L'unico carico che, appunto, dovrà alimentare sarà rappresentato dal nostro amico LED. Per cui, se noi mettiamo un valore di 330 microfarad, il nostro LED si spegnerà abbastanza, diciamo, non velocissimamente, ma una via di mezzo, ok, perfetto, a seconda poi del consumo del nostro LED. Vabbè, comunque sia. Se invece noi attiviamo il nostro carico e quindi chiudiamo il nostro amico interruttore, perfetto, circola corrente, e in un qualsiasi momento, se noi togliamo alimentazione a monte, qui abbiamo il nostro, sì, facciamogli, cosa gli facciamo? Gli facciamo la batteria per identificare, appunto, che gli stiamo dando alimentazione? Sì, ma sì, dai, va bene, perfetto, ok. Se noi, appunto, gli facciamo la nostra batteria e improvvisamente, appunto, togliamo, facciamo finta di avere un altro interruttore, gli togliamo alimentazione, no? L'altro interruttore del mio carico è chiuso, per cui automaticamente la corrente circola sa accendere la mia lampada. Se io improvvisamente tolgo alimentazione, perfetto, il mio condensatore nel frattempo si è caricato, ok, bene, però, cosa succede? Non farà più l'espegnimento graduale del LED, perché tutta la maggior parte della corrente, ok, I, gli scriviamo I, perfetto, che sta per il corrente, se la succhierà il nostro carico, perché ovviamente anche lui è un qualcosa che richiede corrente, e tra un LED e il nostro carico, chi dei due consuma più corrente? È ovviamente il nostro carico, perché il nostro carico, avevamo detto, per dire, da 9 Watt, o anche di più, eh, tra i 9 Watt e i nostri 1000 Watt del nostro amico LED è ovviamente lui, per cui in quel caso dovremmo mettere un valore del condensatore, esempio, che ne so, da 1000, poi lo mettiamo a caso, ok, o lo mettiamo con la formuletta, e questo si vedrà, ok ragazzi, per cui teniamo conto di questa cosa qua. Io spero appunto di aver aiutato la persona che era in difficoltà, ma non che era in difficoltà, che aveva appunto chiesto questa cosa, e quindi ci vediamo poi nella prossima presentazione, dove finalmente, ammesso che non arrivino altre domande ragazzi, non c'è nessun problema, finalmente vedremo il nostro amico analizzatore, che era, ehi sì sì, è un attimo, adesso arrivi, vai tranquillo, sto parlando con lui che nella prossima puntata finalmente arriverà a tenerci compagnia. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima!